Oggi concentrarci sulle nostre microbeghe, dividerci fra di noi, può essere esiziale per il destino del continente europeo. Questo è il ragionamento che io cerco di fare. Poi continueremo a non essere d'accordo su mille cose, ma mi sarebbe piaciuto, lo dico francamente, una volta tanto che si fosse potuto ragionare seriamente di questo, invece di continuare con l'etichetta, sei amico di Orban, sei co. Io queste semplificazioni nella politica estra francamente non le condivido, mi fanno anche abbastanza sorridere, diceva il collega Scalfarotto e noi blocchiamo l'unione bancaria, collega Scalfarotto, la invito a approfondire, temo che lei non si sia accorto che a bloccare l'unione bancaria la Germania prima di tutti è considerata forza europeistissima, quindi vi prego, queste semplificazioni lasciano il tempo che trovano e secondo me in questo tempo queste semplificazioni possono diventare un problema, perché noi siamo, e il MES, ecco, e allora il MES, e allora il MES, va bene, parleremo anche il MES, sto cercando di fare un altro ragionamento, voi rispondete.